Ciao a tutti amici e bentrovati in questo nuovissimo video. Come sempre, con le mie mani, vi do il benvenuto. E per chi non mi conoscesse, io sono Max, parliamo di gossip, parliamo di grande fratello VIP, perché c'è sempre qualche novità che spunta fuori, e infatti ci sono grandi novità. Grandi novità in arrivo, attenzione, non per tutti, ma su Nikita Pelison, perché è stato annunciato qualcosa di molto rilevante che potrebbe rivelarsi decisivo anche quando la trasmissione di Alfonso Signorini terminerà, terminerà tra circa un paio di mesi, quindi insomma piano piano ci avviciniamo verso la fine. La maggior parte delle persone che sono vicine a lei, a Nikita, si sono in qualche modo lamentate del trattamento riservato alla VIPona e adesso è stata presa una decisione, decisione importante da una ragazza a lei, cara. Un supporto concreto, anche se la modella di Trieste non è ancora a conoscenza di questa scelta. A parlare nelle ultime ore è stata una carissima amica di Nikita Pelison a Novella 2000. Si è soffermata sulla concorrente del GF VIP7 su vari aspetti e ha inevitabilmente toccato anche i temi più delicati. A proposito della sua personalità è venuto fuori che, Nikita è una persona particolare, con lei è difficile litigare ed è così anche fuori. Non si può piacere a tutti, sta dimostrando ciò che è realmente in un contesto in cui è ripresa 24 ore su 24. Per quanto riguarda Luca Onestini, lei è attratta da lui. Poi soffermandosi ancora su Nikita Pelison e il rapporto con Onestini al GF VIP7, l'amica di lei a Novella 2000 ha detto, con il tempo certi lati del suo carattere non le sono piaciuti, le registrazioni dimostrano che non si è inventata nulla e Luca ha dei tratti narcisisti ben precisi. Nikita vuole un rapporto civile, Lui invece preferisce attaccarla e trovare pretesti per mandarla al televoto. Chi fa quindi il gioco sporco? Lei è propensa alla pace. Lui attua il suo gioco. Poi la rivelazione più scottante della ragazza. L'amica Giulia di Nikita Pelison è colei che gestisce anche il profilo Instagram della GFina, da quando ha preso parte al reality show. E ora ha deciso di prendere un'iniziativa simile a quella messa in pratica da Gaia Zorzi, sorella di Tommaso. Ne sono state dette tante su di lei. Chi ha esagerato risponderà nelle sedi opportune. Sono stati usati termini pesanti, potenzialmente qualificabili come reato. Quando Nikita uscirà, visionerà il tutto e deciderà come agire. Ho fatto tipo un PowerPoint. Contiene tutto il materiale di ciò che è accaduto. Poi è stato aggiunto. Nikita dovrà conoscere una volta uscita. Oggi il file contiene 160 e 170 slide che aumentano di giorno in giorno. E quasi un centinaio di video con brutte affermazioni dette di lei. Staremo a vedere quando sarà svelato questo PowerPoint.